La Rete Veneta ti è sempre più vicina, vai a scoprire la nuova app di Rete Veneta per iPhone e iPad dall'Apple Store e per tablet Android e smartphone dal Google Play Store. Tutta Rete Veneta sempre con te, nuovi contenuti, nuova grafica, nuove funzionalità, i TG, i dibattiti, i focus, le rubriche, tutto subito a portata di un click. Potrai ricercare e vedere tutti i servizi TG quando vuoi tu e dove vuoi tu e potrai condividerli con i tuoi amici e sui tuoi social preferiti. Vai subito a scoprire le novità del nostro network e scarica subito la nostra nuova app. Segui Rete Veneta, la televisione dei Veneti che sta sempre e soltanto dalla parte dei cittadini.